Come tradizione ormai da oltre 33 anni tornano i presepi del maestro Giuseppe Di Orio, i presepi artistici qui alla Convitto Vico di Chieti. Sì, certamente sì, si riprende alla grande con circa 25 presepi in canna vegetale che costituiscono un gioiello di presentazione per la città di Chieti. Qui sono dei presepi molto belli, sono realizzati come dice lei con diversi materiali. Sì, diversi materiali perché per me non esiste difficoltà a lavorare i diversi materiali, però il materiale che più mi affascina e mi prende è la canna vegetale. Ci sono delle sue opere sparse un po' per l'Abruzzo quest'anno? Sì, tante opere sono in Abruzzo, in particolare c'è un'altra mostra personale presso la rassegna di Lanciano, nell'auditorium di Ocolesiano. Quanto tempo impiega realizzare un presepe? Dipende dal tipo di opera, generalmente ci vuole circa un anno se è in canna vegetale. E che cosa provano a realizzare questi presepi? Sono preso dall'emozione, quindi praticamente quasi una meditazione diciamo, perdo un po' il senso della mia identità nella lavorazione specialmente della canna vegetale. Ricordiamo allora quando si può venire qui a visitare i suoi presepi? Si può venire qui al Convitto Vico in Corso Marruccino tutti i giorni dopo le 10 fino all'1 e nel pomeriggio dalle 5 fino alle 20. Fino a quando? Fino alla 6 gennaio.